Solo per capire, ha 30 anni svolta epocale questo arresto di Mattia? Sicuramente svolta epocale, un arresto straordinario, Mattia Messina De Naro è all'eredito Rina e in quanto tale è stato colui che ha portato avanti la strategia stragista continentale, ha condiviso proprio con Rina questo progetto e quindi arrestarlo dopo 30 anni, dopo che era riuscita a coprire la propria latitanza attraverso reti sempre intercambiabili, veramente dimostra come Polizia Giudiziaria, quindi Carabinieri e Magistratura abbiano fatto un compito straordinario, un'indagine che si muoveva da anni e quindi è evidente che un arresto in questo momento è fondamentale. Grazie.